... Dove lo metto questo grano? Ma dentro, non lo sai? Non ho mai voglia di lavorare. Maria! Maria! Allora è tutto vero? E tu come lo sai? Chi te l'ha detto? Un messaggero inviato da Dio E ha anche promesso una cosa Una notizia davvero meravigliosa Sei benedetta fra le donne E benedetto sarà il frutto del ventre tuo E tu Maria che sei stata prescelta Come madre dell'eletto Vieni fino a me Nel momento stesso in cui ho sentito la tua voce che mi salutava Il figlio nel mio ventre Ha palpitato di gioia La mia anima magnifica il Signore E il mio spirito è esultato in Dio Mio Salvatore Egli ha voluto guardare alla più umile delle sue ancelle Ed ora in poi ogni generazione mi chiamerà Beata Lui il cui nome è santo ha posto in me la sua potenza Lui il cui nome è santo ha posto in me la sua potenza